Buongiorno, buongiorno, oggi presentiamo, recensiamo, oggi presento, recensisco sempre l'arco dei, nel tempo dei 4-5-6 minuti, perché poi a margine sotto il video trovate la recensione scritta che non è uguale a quello che dico io, che dico nel video breakdown di Gianfranco Sorge, libro uscito ufficialmente l'8 luglio 2017, presentato nella città di Catania, mi ha dato i Natali, l'8 luglio, presso il Museo Emilio Greco, che si trova in Piazza San Francesco d'Assisi, per noi catanesi, è dire al Cardinale Dusmet, perché c'è una statua del storico Cardinale Catanese Dusmet, Gianfranco Sorge esordisce con AUG Edizioni, casa editrice legata ad Alter Ego, Alter Ego è il capofila, e poi in termini scolastici, e poi vi è l'AUG Edizioni, un'altra casa, non mi ricordo che quella era proprio per gli esordienti, e fa un grandissimo lavoro, una bella copertina, un libro, insomma, molti editori, insomma, una stragrande maggioranza, curano parecchio, da dire che negli ultimi anni, nell'editoria indipendente, si è parecchio imposte, ha dato dei ceffoni anche agli editori storici e grossi, quelli che definisco le major. Un libro importante, interessante, anche divertente, la storia di due persone, Alberta e Lori, Alberta e la donna, Lori l'uomo, che vivono diametralmente opposto, il modo di interagire, di rapportarsi, la sessualità, ma era diametralmente opposto, tant'è che Lori si presenta a questa donna così, frattanto che per strada, perché per un piacere di conoscenza, non per altro, e poi finiscono per relazionare. Relazionare però, ed è lì che sta il primo punto di rottura, a modo come desidera Lori, senza un'amicizia molto intima, molto stretta, che sì, prevede una sessualità, però non la sessualità classica del tradimento altro, ma tutto è da svelare e non ve lo dico nel libro. Il libro è interessante perché interseca e va a trovare anche dei parallelismi col vissuto dei due protagonisti, un vissuto drammatico, tant'è che è il breakdown, perché nel momento in cui lo rivivono c'è il crollo psicofisico, in psicanalisi, in psichiatria, in psicologia breakdown, proprio il crollo psicofisico, e qui è un periodo che sono con i miei colleghi a recensire colleghi e gente che orbita nell'area filosofica e psichiatrica e psicologica, anche se io lavoro in un'area psichiatrica, ma sono psicopedagogista, quindi però siamo tutti in una grande branca, perché c'è un passaggio, un passaggio e un altro, ma questo che ce ne frega niente, mi è venuto da dirlo. Nella copertina c'è Loris, che dipinge una donna che non è Alberta, lo scoprirete dentro così. Cosa succede? Succede che questa donna ha una vita parallela, oltre al vissuto storico, nel background ci sono altri breakdown, ho detto background prima, altri breakdown, lei vive con le sorelle, con due delle tre sorelle, sono quattro, e due sono due arpie, Lidiana e Marta. Poi Lori invece vive con il figlio Gabriele. Cosa succede? Che Lori ha una visione, una veduta molto aperta di ciò che è il mondo, non necessariamente la sessualità, ma il mondo. Alberta è la figlia che si desiderava essere figlia di sesso maschile, perché i genitori avevano avuto come quarta prole un bimbetto che era morto dopo 8-9 giorni, e quindi poi nacque Alberta ed è stata sempre il maschio della famiglia, ma anche lei, proprio perché ne ha risentito, il padre quasi non aveva accettato questa nascita ulteriore di figlia femmina. Molti riferimenti a quella che è stata la psicanalisi di Storm, non ricordo altro, dove è importante quelle che possono essere le parafilie, ma che danno un innesto forte di creatività e di interesse. Anche se di parafilie non si tratta e non se ne parla in questo libro, si parla di alcuni elementi, alcuni spunti della sessualità con dei picchi notevoli che possono arrivare quasi alla pornografia, ma non più di 5 pagine in tutte le 220 pagine, solo che diventa un basico, importante e costante della vita e della relazione di questa storia. Un libro importante perché in molti ci si sono riconosciuti, proprio il giorno 8, quando vi è stata la prima nazionale a Catania. Ciao, confratelo, Gianfranco Sorge, breakdown, 14 euro, AUG edizione. E il quarto libro è l'esordio con AUG, è il quarto romanzo di Gianfranco che conosciamo bene perché non dimentichiamo che è stato per circa tre mesi, qualche anno fa, con il libro, non me lo ricordo, insomma quello edito da GoWare Edizioni, in testa alle classifiche. Ciao!